Stimola il senso del ritmo e la musicalità, l'espressività e l'interpretazione personale, la collaborazione e il lavoro di squadra. In pedana le atlete dell'agonismo giovanile allenate da Martina. In pedana le atlete dell'agonismo giovanile allenate da Martina. In pedana le atlete dell'agonismo giovanile allenate da Martina. In pedana le atlete dell'agonismo giovanile allenate da Martina. In pedana le atlete dell'agonismo giovanile allenate da Martina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.